C'è Dracula, Dracula, attenzione, Dracula con la spada in legno Ah, questo è Gaetano, ok Mamma mia, che knockback che mi ha fatto quello lì Grazie a tutti ragazzi, eccoci in questo nuovo Hunger Games C'è anche Stone Poi c'è due nuovi amici che sono Gaetano664 Ci sono anche io Sì, e fammeli presenta tutti, Alexio001 e Pinky che non vedo Hola Sono io Eccolo, sono, credo siamo dalla parte opposta Ti leggo il nick Raga, verso Nord Vabbè, io voglio Vabbè, questo è quello che ho detto Che te in dirigente Vabbè, mi guarda Vabbè, comunque Adesso Vabbè, sono quasi puntato Vabbè, i giochi, un po' Vabbè, ho fatto Vabbè, io ho pantalone ed elmo Vabbè, sono in giocamattico Vabbè, io ho scelto appena ora 1 Vabbè, Alexio001 Vabbè, la notte Vabbè, che gutica Vabbè, sei Vabbè, che giù Vabbè, se vuole Vabbè, che vuole Vabbè, sono Vabbè, un po' roma se non mi si ce l'hai dove state testo ieri siamo buona c'è un'altra parte la domanda del volto chi siete voi questi noi abbiamo detto che si siamo in acqua del cacchierone questo dio siamo in acqua di caldia mentre prima la cesta con il lato mamma mia grande io seguo questo perchè sono interessato con l'ambiente sono statunitore di quale c'è un diamante la vita di chi riesce a colpirmi test e se un po' lontano io credi a raggiungerti c'è un po' vai ora l'italiano inizio un po' da soltanto o spada per qualcuno o a me servirebbe che soltanto 2 7 e chi è in su spada in piatto solo che ti vedo stai raggiungendo quella legge voglio chissare questo 4 c'ha l'arco rinforzato rinforzato il tritale sia otteniti questi ok il risultato a me non mi no a me non tieni che come mi scaccia con le frecce affinato le frecce mi dispiace andrea 2 3 ma non posso fare a me o chi l'arte sarò qui tutto il giro a seguire finché non morirà voi avete mai visto un video no meno male feccia della società oh è morto finalmente buongiorno io non posso io non sono ma siete morti chi è che morti appena ho ucciso uno andrea si talmente tu sei stato via a stalkerarlo raga ti andiamo molto ah guarda io ho delle armature per voi lei già aperta quella cesta dove stai che età no io ho il cinema si ho con storia con cinti verso dove verso il cinema non mi ricordo verso 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 poi c'è in pietra e una canna da pietra ok ah il cinema dovrebbe stare laggiù ok sono vicino credo credo eh e c'è della gente che si insegue la gente che si insegue io stuzzicato ma stuzzicato io stuzzicato io stuzzicato è una bella cosa quando la gente si insegue i terribili lucidi quello che si ha vinto per poco ma andando al cinema vicino al vetro ah ok io sto andando al cinema Alexio c'è uno che è là dietro cioè guarda c'è la gente qua c'è dracola c'è dracola c'è dracola c'è dracola dracola attenzione dracola con la sfada in legno ah questa è Gaetano ok mamma mia che che mi ha fatto quello lì sono al cinema raga sei t'è quello io sì buongiorno ti tieni grazie un attimo ragazzo al cinema no che ci vuoi fare inizio no niente piedini ce la vedete mi servono i piedi chi è quel tizio alessio si adesso oh spada in ferro no dammi la spada mi chiedi mi chiedi mi chiedi mi chiedi mi chiedi mi chiedi che t'armo che t'armo tu non puoi fare il cinema e a me e a me io ti chiedi io ti chiedi dici le coordinate arriviare ti chiedi ma ti chiedi ma ti chiedi qua a scuola dietro no gins ma ti chiedi qua ma ti chiami x player killer no ci sto per sapere e chi è x player killer boh è preso no non l'ho preso l'ha preso l'italiano alexio basta con sta canola pesca alexio fermo oh non ho sclerate vi divido con la spada dai dai sti piedi dai sti piedi dai gli stivali i piedi alexio salite su salite su salite su saliamoci sulla struttura dove eravate prima c'è una scelta ok sei morto bene su su dove? al cinema? sopra il tetto ma come ci arrivi? genio ok to dove stai? avvisare una canna da pesca a me a me no l'ho appena tratta a me si arriverà un arco già la genio tu no canna da pesca no tieni ok a me ti ho tanto percorso chi ce lo trova? no no ma non guarda colore è un po' di numeri persone abbiamo trova gli altri pedaglia per cento dentro la casa è gigante ci sono io no 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 chi c'è un arco per me? eh io sto cercando un arco io l'ho trovato uno ma perché non mi sale mai quando sono in acqua è vero, pure a me chi è questo? ok, c'è un arco, chi lo vuole? chi lo vuole l'arco? io, io, io tutti nella grande casa blu lo butto in terra, tenete ragazzi, c'è una sera ragazzi, c'è una sera ragazzi, c'è una sera ragazzi, io sono sopra ce l'avete, frecce? io ho 5 basta, mi serve oh, che bel palconcino stiamo a cercare qualcuno da ammazzare ragazzi, ma... la spiaggia, raga lì c'è sempre qualcuno da ammazzare vero fai il falò con le persone, andiamo pink, quante vincite hai fatto? credo 83 quante? sì, 83 ok, c'è proprio Gaetano hai già esplorato dove resta la casa? ma ci se ne frega la casa abbiamo chelato la gente io sono tutte le volte le città io sono messo malissimo rispetto a Gaglia dietro di me sì, sì, siamo uno pink, sei là buongiorno buongiorno sono davanti ah, no, buongiorno che è, pink son, che è, mi fa vedere come sei io metto a pescare 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 raga, chi va all'osservatorio con me? chi viene all'osservatorio con me? io ho che osservatorio che osservatorio? aspetta che pesco io io ho caspato io sto salendo poi vabbè pace son, portaci dalle persone invece di vedo un nick là, eh ma sto, non è morto? sì, è morto è sotto vado a prenderlo è una mucca eh, dai che l'ho uscito tre frecce per ora mia me la doro avete un diamante, raga? no, ce sto diamante ma come guarda, poi ce l'abbiamo, te lo diciamo non vuol appena non vuol appena c'è uno, chi è? c'è uno là, Agata andiamo a chillare se avevo l'arco le frecce raga, credo che c'è ne d'acqua raga, venite qua ho paura, stai dietro, eh dai dai si è d'acqua vengo da dietro no, ho chillato no bene, sai di su, c'è uno qua oh, mi ha quasi colpito non vuole morire eh, mo' butta contro di me ma che palle oh, aiutatemi non mi lasciate da solo mi ha bella cascata arrivo io lo picchio io spara mi le frecce invece di picchiarlo ti pancio, che tol, ti pancio ahia, si toglie un sacco di cuore questo perché casca in acqua mamma mia come ho scanzato una freccia incredibile tipo Matrix se ti spara frecce premi con la spada al destro sì, è vero fa meno danno lei ha t'aiuto arrivo raccogliessi le frecce perché spingi a me? ragazzi a me mi colpisce con la freccia mi si fa sì, lo so perché le pari quando fa così caione ho una spingi ti prego e ti sto aiutando solo che lo più possibile sono così morto se lo fate salire sulla terra mi do fuoco freccia sta affressionando spingi dietro guarda ma non svegli madonna ma quante cuoriccia ma che cazzo li su da tre ore che lo colpisce muovo ho avuto il mondo aprile c'è per un po il lavoro di calma muovere nuova risposta e come si fa fatte prezzo e già flash sponsor io provo a prenderlo da dietro è un'altra roba ma immortale statizio grazie pietra di donato io ce l'ho ma non ho frecce c'avevo una freccia posso sponsorizzarti più le frecce ho una freccia se la volete ragazzi sto parando anche le vostre state attenti no non parare le nostre qua c'è una testa che mi sa che l'hanno preso ho un arco per chi lo volesse lui mi sa che a me servirebbe detto che l'hanno preso quanti cuore c'è sto tipo madonna santa qualcuno vada dirà dalla parte opposta miei altre frecce ma da dove le partorisce dicevo buono poi le continuano a sponsorizzare cioè semmo facendo dai ve lo spingo addosso hai beccato me sai siccome è un po' più corto ha tanti cuori oh ti stai uscendo fuori dall'acqua ma oh oh ci muoio ho preso le mie frecce che ho lanciato in terra prima oh gg alleluia ho la spada di ferro ce la vuoi già bene dio mio genus fa la spada di diamant è vero c'ho due diamanti attenzione ehm genus vieni vai dammi dammi lo sapevo che mi davi i piedi tu mi dai sempre i piedi a me mi serve no sono forse io ho gambali di ferro se vi servono prendi quello si si intanto non cambia lo so che non cambia però per me è una crafting dimmi chiudo una crafting e sali sopra la cascata ora c'è il tizio no c'è più urcoso purcoso c'è una no hai troppo messo bene questo sono in due aspetta io salgo su lì faccio la spada in diamante e poi vengo tanto c'è dovreste fare e di là e di là genus attento a non soffocare dopo segui l'acqua raga ma chi mi aiuta e io sto andando da dietro ah ok allora è sceso è sceso sono due in team eh l'acqua a me non mi piace cioè ci metto mezz'ora ti spingo gaetano io sto risalendo ah x player code genus segui l'acqua e poi a destra ok dai vai vai attenzione pink c'è la sua lato genus sott'acqua c'è una cesta e non per la cronaca alla tua sinistra vabbè c'è roba che c'ho già oh un è morto questa è io qui all'arco all'arco cazzo l'arco cazzo l'arco cazzo l'arco cazzo l'arco cazzo l'arco è il tizio con l'arco pure coso ma me ero dietro l'albero piacca patti oh volevo colpire quello dov'è sta crafty parola no l'ho trovata cazzo io muoio sto dimmi se mi viene con mi ma quante frecce c'hanno ste persone ok credo abbia finito frecce se ne hai vai portate la cesta mamma mia raga ti posso spostilizzare le flecce no no aia aia ragazzi ho tre cuori raga no sono morti sei gostato ah no ti sei sgostato ma dove stanno e dietro di te non credo abbia molta vita però ti conviene scappare chi è la spiaggia qui non c'è la spiaggia non c'è la spiaggia ma quelli lì sono ancora bigli ma dai chetà c'è un altro dietro con quasi full flat ma dove stai chetà c'è sulla strada verso il cinema se butti un oggetto ti riesco a dare una enderpearl tieni chetà c'ho dato un enderpearl bugia ok ho buttato stai dietro cosa dietro ma stai vedendo a me ora no ah no ma aia non posso buttare la prezzo la cosa ma te la dici credo genius ti hai buttato in terra e te li sei ripresi grazie per coperto la crafting aspetta ma te l'ho detto io la lenda non lo so finché non ha dato io la passo posso farmi altre frecce ah è vero lontano da te che lontano da te vota su un secondo niente io non ti voglio sentire gridare quindi voglio che vinci questa parte la taglierò brutalmente guardi dove sei? io sono ancora ero alla crafting ancora chi è morto? Gatane vive Gatane vive no Gatane vive ma che crafting stai? a quella vicino all'aeroporto sulla montagna? si sulla montagna lì ok allora io sono vicino a te oh mamma mia che paura oh genius mamma mia ce l'hai l'acciarino? mi vedete ho preso no no non ti vediamo io vado a farmi altre frecce ogni volta che trovo allora comunque c'è refill lo spawn no ma guarda che refill l'hanno già fatto il refill c'è già stato lo so però e per refill è su tutte le ceste io l'ho fatto qui il refill ho preso un po' di roba hai preso la doppia cesta? no quale? dov'è? si spinge la leva e poi c'è mezzo ai cuopri ma dove? io non sono andato giù tu giù la casa giù di mattoni ci sei passato davanti no no allora aspetta che ci vada mi sa non posso dire però dov'è? Gatane il treno ci sono le tirs giù Gatane tutto il treno ti devi fare ma tutto fino alla fine e prezzi quelle del treno? no non ho preso niente qua dentro non ci so proprio entrato trovi corazza di ferro dimmelo vabbè mi manca l'ultimo è una cicciù ragazzi l'ultimo è una cicciù corazza di ferro io ho un bopo di acciarini treno pur io ho l'acciarini treno dai io ne ho 3 copri e 5 a parte il death match che ora si beve dai vai l'acqua ragazzi si è messi benissimo l'altro è da solo è più il ferro ma è da solo no ma è forte è forte quel tizio sta buttando i camanti è arco è molto forte ma dove sta? dici dove sta? che così può da solo è allo spawn e vabbè mo ci arriviamo ma avete 33 secondi per arrivarci ho capito che ci facciamo è molto forte sto tizio qui dovete puntare a dargli fuoco è l'unica modo che avete per vincere probabilmente ho 5 caciarini ho 5 caciarini basta io ne ho 4 le 6 fauna non mi frega niente dove c'è sta lo spawn ho solo ho 4 ho 3 pochissimi sti che avevo oh guardi la oh caccio io sono in mezzo vabbè tanto sei con me era peggio se lui era in mezzo c'è pure la mia tila senti allacciarino chietà ma sei invisibile perchè non ci vede io ci faccio marini bello oh fuoco da dietro scappa scappa chietà ma perchè non ci riesco a vedere spare gli frecce è dall'altra parte oh non lo vedo lo stesso ai 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 con un cuore non lo vedo dove caccia ha colpito recitalo per il genio in questa città e io so come l'ho fatto finchi no che non l'ho visto ma non so cioè non l'ho visto mamma mia gata no ma cacchio sei morto un colpo cioè praticamente mi sto avvicino al boom 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 genius lui è dentro il faro circondalo di fuoco io l'avevo 5 cacciari ma perchè il giocatore non li vedo vento da dietro 1 1 1 ma c'è qualcosa che gli mette il dirino ma questo qualcuno che ha vinto anche prima eh eh si si vabbè ragazzi non so se hackeri no è hacker boh cambiamo server e per questo video è tutto se vi è piaciuto mettete mi piace e commentate e se non siete iscritti al canale vi piace questa serie iscrivetevi e da genius39 stone pinkiepick gaetano664 e alex01 ciao 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 ciao